ciao a tutti cerrellini e benvenuti in un nuovo video oggi abbiamo un altro pacco federic store che adesso apriamo allora qua già vedo qualcosa di interessante ok qua abbiamo un colce sconto un'altra carta autografata questa qui sempre da federic e poi questo set allenatore fuori classe futuri campioni che pure questo set mai aperto ovviamente per me allora c'era la possibilità che potevo trovare il golden ticket però non l'abbiamo trovato vabbè è sempre 5 persone pochissimo quindi io devi riaprirlo allora apri i forbici prendi comunque il federic store c'è uscito anche la nuova espansione regno graciale proprio uscita oggi e si può trovare la potete prendere ma quanto è bello grande tutto così il set allenatore fuori classe di espansione futuri campioni del ggc pokemon contiene 10 boost di espansione futuri campioni una carta promozionale a figure intera quindi full art di charizard v che è buonissimo ti ha valuto pure tanto 65 proteggi carte con charizard nella sua forma gigamax 45 energie a caso vabbè per fare il mazzo una guida giocatore 6 dadi un dado lancia moneta valido per legare 2 segnalini delle condizioni speciali un cofanetto a collezione e poi il coge allora ma quanto è bello con charizard proprio qui adesso però tiriamolo pure dalla scava ma quanto è bello eh piace? wow quanta roba mettiamo qua allora apriamo qui togliamo questo abbiamo dei bustine 10 10 poi mettiamo qua poi abbiamo regolamento vabbè che lo potete trovare pure nei mazzi qui stanno i dadi ma è la carta cioè io lascerei qua nella bustina così c'è la riscorda di full art bellissimo qui abbiamo questi cosi che non so che servono vabbè il coge e questi qua che servono potete scriverlo nei commenti che non l'ho mai capito servono qualcosa per i mazzi poi stanno i proteggi di carte 65 le energie oppure dadi vi potete vedere queste e questi qua pure sempre per giocare allora apri tu allora queste qua taglale queste non ce le ho e però queste le possiamo già aprire tutte allora andiamo e poi allora dove sta la guida giocatore? lo trovo lo trovo qual'è? non è ah qui sta stavo ancora nel allora guida giocatore ci sono tutte le carte che si mostrano nel set ecco qua il set è piccolino però eh ti vede bene? ti vede bene? apri tu vedi bene? ecco e poi iniziano ad esserci le carte più rare eh però i pezzi forti sono questi charizard v max hyper charizard v shine che valgono un sacco però c'è pure questa che è pure rara e pure tutte le altre però allora queste qui sono i quattro artwork che sono molto carini mettiamo qui dopo papi se vuoi tagliarli se riesci eh però iniziamo con la prima bustina i set allenatore sono molto belli perché c'è molta roba utile per giocare e vabbè apri solo una e poi facciamo un altro video in che senso? per le altre allora codice 1 2 3 4 e iniziamo allora energia lotta macioc macioc molto bello macioc ah è vero in questo set l'ultima carta o è v o è v full art o è v max o è un allenatore full art o è uno quindi abbiamo macioc molto bello allenatore ab sol rock raff vulpix carino pozione una banana cura totale ancora peggio roly coli big driller questo carino e come vedi questo è un avolo che possiamo mettere dopo nel proteggi carte qui vabbè questa carta ci vediamo nel prossimo video dove apriremo le altre bustine perché questa diciamo che era solo la presentazione del set allenatore dopo faremo un altro video e apriremo tutte le bustine ciao